Diciottesimo municipio, ci troviamo in via delle Fornaci. Qualche tempo fa avevamo parlato con il presidente Giannini e gli avevamo esposto un problema grandissimo, quello della pericolosità di questa strada, specialmente in questo tratto dove uscivano i pullman che trasportavano i turisti qui a San Pietro. Oggi questo pericolo è stato totalmente eliminato. Il presidente Giannini ci disse che avrebbe lavorato su questo quadrante, in questo spazio specifico, in questo parcheggio importantissimo per la zona e l'ha fatto. Ecco qui, due piccioni con una fava. Abbiamo ritrovato un parcheggio, uno spazio importante per il Diciottesimo municipio ed è stato risolto un problema di pericolo per i pullman che si mettevano qui su via delle Fornaci. Grazie a tutti.